Sono lì che piangono e capisco, però si riparte. Ecco, si riparte la campese, comunque una società solida, con delle persone come lei che sono tanti anni, Presidente, questo gruppo di ragazzi, quindi ripartirete, come avete sempre fatto? Certamente, certamente ricominceremo, faremo una squadra per cercare di ritornare su, per il meno di giocarci al prossimo anno. Abbiamo già abbastanza preventivato che potesse succedere, la gioca al 50% di probabilità avevamo e ci proveremo. C'è molta amarezza, evidente, amarezza anche alle mie parole, probabilmente la mia ultima partita, quindi, insomma, anche questo mi dà abbastanza fastidio. Ecco, potrebbe essere la sua ultima partita in panchina, mister? Sì, 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 non nell'ambito della società, no, sicuramente starò nella società per cercare di ritornare subito su. Ecco, però comunque non è una partita questa retrocessione che può cancellare gli anni di questo gruppo, i suoi e i suoi? No, 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 ma quello, cioè, l'ho detto prima della partita, l'ho detto prima dell'ultimo mese, ne abbiamo parlato, quello che noi abbiamo fatto, che abbiamo sbagliato, è stato il giro nell'andata, perché 10 punti fare il giro nell'andata, poi è logico che diventa tutto difficile, poi ognuno fa le cose secondo le possibilità che ha. Meglio di così non si abituisce a fare la calcia a questo, c'è anche da dire.